Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Edoardo Bennato è uno dei capisaldi della storia della musica italiana, contribuendo a renderla meravigliosa e immemorabile. Edoardo è nato a Napoli il 23 luglio 1946 ed oltre ad essere un cantautore è anche polistrumentista. Dal momento che è in grado di suonare almeno due strumenti diversi. L'artista ha contribuito a costruire un pezzo di storia della musica italiana, a tal punto che i suoi brani sono diventati dei veri e propri classici. Si sa molto della sua vita professionale, ma molto poco su quella privata. Infatti, l'uomo è una persona molto riservata e sappiamo solo che il prossimo 23 luglio compirà 77 anni. Ha una compagna, della quale non si conosce il nome, e i due hanno avuto una figlia, Gaia, nata nel 2015. Il cantante ha si avuto un grande dolore per la perdita di una persona a lui cara, ma è successo diversi anni fa. Nel 1995, il cantautore napoletano Bennato si è visto coinvolto in un incidente stradale fatale. L'episodio è stato mortale non per lui, ma per Paola Ferri. Quest'ultima era la fidanzata dell'epoca dell'artista. Una tragedia devastante. Per lei non c'è stato nulla da fare. La Ferri era una studentessa di psicologia e quando ha perso la vita in quei gravi incidenti aveva solo 23 anni. Edoardo Bennato ha sofferto molto per quell'incidente, ma adesso è un uomo sereno e in perfette condizioni fisiche. D'altronde, si sa, il tempo riesce a guarire ogni ferita. D'altronde, si sa, il tempo riesce a guarire ogni ferita.